Quindi come verrà strutturato questo corso? Prima di tutto bisogna superare il primo ostacolo ho bisogno di utilizzare GIS o posso utilizzare altri software o semplicemente perché sto usando il GIS perché mi è stato detto però non ho ben capito che software utilizzare quindi prima di dobbiamo smarcare questo primo punto una volta smarcato questo punto vi farò una panoramica sui vari GIS che ci sono disponibili i più utilizzati ma questo farà parte un po' di tutta la parte del corso poi entreremo a visualizzare un software GIS che è il mio preferito ma che reputo interessante da molti punti di vista quindi il software QGIS è un software open source che potete scaricare appunto in questo corso ci sarà anche tutta la parte di installazioni di questo software su linux su windows e anche su mac e poi successivamente andremo alla ricerca di dati geografici liberi e quindi con licenza da open data e infine creeremo una mappa come un diciamo come se fosse una richiesta o di lavoro o comunque della di un corso di studi di avere un output un pdf con una mappa sicuramente la parte importante è l'interfaccia di questo software perché può essere simile ad altri software di grafica altri software un po' più tecnici però vedrete che soprattutto QGIS ha un'interfaccia molto particolare che con molti strumenti questa è la prima cosa che non vi deve spaventare cercheremo proprio di individuare le parti dell'interfaccia più utilizzate più comode all'inizio da per appunto andare avanti e creare la nostra mappa e poi ci tenevo a dire anche che questo non è un corso solo per studenti di geografia di urbanistica di sociologia è un corso anche strutturato per i tecnici degli uffici tecnici comunali o comunque i tecnici che lavorano in aziende come ho sempre fatto io negli ultimi anni che hanno bisogno di elaborare i dati e processare i dati con il giusto software e quindi se vi trovate più o meno nelle condizioni che vi ho descritto prima probabilmente avrete già provato a come dire ad aprire il file che vi è stato dato magari soprattutto in particolare uno shapefile avete provato a installare QGIS avete schiacciato il tasto apri e un po per un po misterioso questo questo passaggio io non posso aprire così semplicemente il file lo shapefile con QGIS non semplicemente ma neanche troppo difficili infatti ci sono due principali modalità di di aprire un file un'apertura del progetto è un'apertura del deli shapefile dei dati geografici e vedremo subito subito questo questo passaggio